Hai visto quante novità al Conad di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti, per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio! Noi andiamo al Conad di Montecchio!